Il Real Suttano cerca di ritrovare il feeling con la vittoria, ospitando domenica in casa il Villarosa San Sebastiano, per cercare di riconquistare i tre punti che mancano da un paio di settimane. Promozione Girone C, tredicesima giornata di campionato. Aci e Galatea Belpasso, Caggi Valdinisi, Aci Catena Polisportiva Nicosia, Calatabbiano Santa Domenica Vittoria, Polisportiva Sant'Alessio Real Aci, Real Suttano Villarosa San Sebastiano, Riposto Sport Club Aci. In prima categoria, giornata di derby tra Niscemi Riesi, Accademia Mazzarinese Don Bosco Mussomeli e il match clou sommatinese Sera di Falco. Impegno in trasferta invece per il Gela in casa dell'atletico Santa Croce. Prima categoria Girone F, tredicesima giornata di campionato. Niscemi Riesi, Sant'Anna Enna Don Bosco 2000, Accademia Mazzarinese Don Bosco Mussomeli, Atletico Favara Barrese, Atletico Santa Croce Gela, Aragona Alessandria della Rocca, Sommatinese Sera di Falco. In seconda categoria, nel girone B, spicca il derby tra Bonpensiere e Atletico Villalba, mentre il Campofranco farà visita al San Giorgio Vicari. Nel girone E, turno di riposo per il Terranova. Seconda categoria, girone B, undicesima giornata di campionato. Belsitana Real Caccamo, Bonpensiere Atletico Villalba, Cianciana Prizzi, San Giorgio Vicari Campofranco, club finale Ribera, Lercara Giovanile Collesano. Seconda categoria, girone tredicesima giornata di campionato. Canicattinese Melilli, Ragusa Boy Scalat, Phil Bordon Vittoria, Priolo Real Sicilia 2022, San Conitana Pozzallo 2, Cassibile Lapinetina, Riposa Terranova. In terza categoria, impegno casalingo per la nuova Pronissa contro il Real Gela, mentre l'Atletico Nissa sarà di scena sul campo della Juve Terranova. Terza categoria, girone Caltanissetta, settima giornata di campionato. Caterinese Marianopoli, Acquaviva Buterese, Amogela Don Bosco, Juve Terranova Atletico Nissa, Nuova Pronissa, Real Gela.